Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. Veneto che vede anche oggi un aumento esponenziale del numero dei contagi, sono stati oltre 800 i nuovi positivi, 883 per la precisione, 7 le vittime registrate. Per quanto riguarda gli attualmente positivi nella regione siamo saliti a 13.170. L'andamento dei dati ospedalieri segue il peggioramento della situazione epidemica, i ricoverati in area non critica sono 261, quelli in terapia intensiva 58, 6 in più rispetto a ieri. Nel frattempo a proposito di ospedali a Iesolo si è spenta la vita di un bimbo di soli 23 mesi morto nel pomeriggio di ieri a causa di un arresto cardiaco. A nulla sono valsi la corsa in ospedale, il tentativo dei medici di salvargli la vita, il suo cuoricino purtroppo ha smesso di battere per sempre, avrebbe compiuto due anni a dicembre. A lanciare l'allarme erano stati i genitori, una coppia originaria del Bangladesh residente a Iesolo Lido attorno alle 18.30 di ieri. Il bimbo non stava bene, ha perso i sensi, pochi minuti dopo è arrivata un'ambulanza, è stato immediatamente trasferito in ospedale al suo arrivo in pronto soccorso. Le condizioni erano già gravissime, i medici hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Sono continuate anche durante tutta la giornata di oggi le ricerche del diportista di Conegliano, in provincia di Treviso, che risulta ancora disperso da ieri. Le ricerche sono state avviate a seguito dell'incidente in mare avvenuto nella Baia di Panzano, dove sarebbe affondata la barca a bordo della quale stava navigando assieme al padre, ritrovato morto. Per tutta la giornata i mezzi navali della Capitaneria di Porto di Trieste, Monfalcone Grado, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza si sono alternati nelle aree di ricerca, loro assegnate dalla sala operativa della Guardia Costiera. Per quanto riguarda poi i sorvoli ci sono stati gli elicotteri giunti anche da Venezia. Le ricerche ancora in atto sono state rese difficili dalle severe condizioni meteomarine, una bora attorno ai 29 con raffiche di 30-35 e mare a livello Forza 3. Ricordiamo che Vittorio e Stefano Verongalli vivevano nel quartiere coneglianese di Monticella in Viaciotti. La notizia della loro scomparsa è stato forte cordoglio, lasciando nel dolore la moglie di Vittorio, Monique e la madre Stefani, anche lo stesso sindaco di Conegliano Fabio Chies si è detto colpito per la tragedia e si è stretto accanto al dolore della famiglia. Ancora cronaca, ci spostiamo a Verona dove c'è stata un'operazione congiunta della Polstrade, della Guardia di Finanza di Verona che ha portato all'arresto di un quarantenne lombardo e al sequestro di oltre tre quintali e mezzo di cocaina per un valore sul mercato di ben 35 milioni di euro. L'uomo viaggiava in autostrada a bordo di un canno e non ha destato l'attenzione di una pattuglia della stradale a Verona Sud. Durante il controllo è emerso che il mezzo conteneva materiale idraulico, tra cui WC, lavandini e altri articoli da bagno, ma il conducente non era in grado di esibire alcun documento di trasporto. Ipotizzando illeciti economici e finanziari, i poliziotti si sono avvalsi del supporto della Guardia di Finanza. Il crescente nervosismo dell'uomo ha indotto poi un'ispezione più accurata che ha permesso di scoprire, occultati come mattonelle tra gli articoli da bagno, 300 panetti del peso complessivo di oltre 355 kg contenenti cocaina purissima. Il responsabile è stato quindi arrestato per traffico di droga e su disposizione delle PM è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Il sequestro risulta essere il più ingente mai effettuato nella città scaligera. È probabile che la droga fosse destinata proprio al mercato più ampio rispetto a quello della provincia veronese. Ora ci spostiamo a Venezia, weekend di assalto turistico nella città lagunare. L'Associazione Veneziana Albergatori propone un pendolarismo contingentato e la prenotazione per visite e parcheggi. Tra l'altro proprio nella città di Venezia l'amministrazione comunale pensa anche a togliere gli spazi dei decor concessi durante il post-lockdown e le zone di restrizione per quanto riguarda bar e ristoranti. Il servizio di Samantha Segatta. Come ogni fine settimana Venezia ha registrato un grande afflusso di visitatori. Non ne gioiscono però tutte le attività veneziane in quanto gran parte del turismo nel weekend è pendolare e va incontro per lo più ai pubblici esercizi piuttosto che alle attività commerciali che ancora risentono della mancanza di turisti russi, cinesi, arabi e americani. Secondo il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori Bonacini i flussi turistici vanno identificati e il pendolarismo contingentato. Una soluzione potrebbe essere la prenotazione delle visite ai musei ma anche del posto auto nei parcheggi in modo da evitare il blocco del Ponte della Libertà. A livello di prenotazioni alberghiere finora nel corso della settimana gli alberghi del centro storico registrano una media del 50% di occupazione mentre nel weekend il dato sale all'80%. Torniamo ora ad affrontare la questione relativa al prosecco. Quasi una bottiglia di vino italiano su sei stappate oggi all'estero è proprio di vino prosecco. Diventato lo star mondiale delle bollicine grazie anche a un incremento delle vendite oltre confine del 32% in questo 2021. Il dato emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi sette mesi dell'anno. Nel commentare positivamente l'opposizione ufficiale presentata dal ministro delle politiche agricole Patuanelli e del sottosegretario Centinaio contro il riconoscimento della menzione geografica tradizionale europea per il prosecco, trasmessa l'attenzione della Commissione europea con la posizione italiana e le motivazioni tecniche. La Croazia ha ora 60 giorni di tempo per le contradduzioni. Il prosecco è un vino dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia e per il quale Zagabria chiede di registrare una menzione tradizionale dopo che il tentativo di proteggere la stessa era già fallito nel 2013. È necessario fare presto per fermare una decisione scandalosa che colpisce il vino italiano più venduto al mondo ha affermato il presidente della Coldiretti nazionale Ettore Prandini nel precisare poi che si tratta di un precedente pericoloso che rischia anche di indebolire la stessa Unione europea nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio dove occorre tutelare la denominazione prosecco dai falsi. Secondo il rapporto annuale di Lega Ambiente Ecosistema Urbano Treviso si colloca al nono posto tra i capoluoghi di province italiane per qualità ambientale. Tra inare il buon piazzamento nella classifica che la vede in testa le città venete la raccolta differenziata dei rifiuti. Ci fa il punto della situazione Raffaele Ferraro. Scala due posizioni in classifica ed entra nella top 10. Non si tratta di una nuova uscita discografica ma del piazzamento della città di Treviso nel rapporto annuale di Lega Ambiente Ecosistema Urbano. L'associazione stila periodicamente in collaborazione con Ambiente Italia e il Sole 24 Ore una graduatoria sulla base di 18 diversi indicatori inerenti alla qualità ambientale mettendo in fila i 105 capoluoghi di province italiane. Treviso si colloca nel 2021 al nono posto prima tra le città venete nella classifica guidata da Trento con Reggio Emilia al secondo posto e Manto Valterzo. Il parametro in cui il capoluogo della marca si distingue maggiormente è quello della raccolta differenziata in cui si piazza il secondo posto in Italia con un 87,4% di rifiuti recuperati superata unicamente da Ferrara. Le due criticità vengono invece dalla qualità dell'aria e dalla gestione dell'acqua. Per quanto riguarda la prima, oltre al noto problema degli sforamenti annuali della soglia di polveri sottili ben superiori al consentito, emerge che l'aria che si respira in città è tra le peggiori d'Italia anche nel corso del periodo estivo, tradizionalmente meno critico. Per quel che concerne il secondo problema, la carenza di un sistema fognario in gran parte del centro storico costringe l'utilizzo ininterrotto del depuratore, consumando grandi moli di acqua. Saliamo a Belluno. Quello allo studio deve essere un diritto per tutti e questo è il messaggio lanciato dalla consulta degli studenti di Belluno ai politici. L'obiettivo è riuscire a portare in provincia alcuni corsi universitari. Alessia Trentine. L'hanno chiesto davanti al ministro bellunese Federico Dincà, il presidente della provincia di Belluno, all'assessore alla cultura del comune capoluogo e ad altri rappresentanti delle istituzioni senza timore e con grande sicurezza. I studenti bellunesi hanno steso un vero e proprio manifesto in cui chiedono una maggiore attenzione per la provincia di Belluno e per i suoi studenti. L'obiettivo è portare in città corsi della facoltà di geologia e di scienze forestali perché la partenza di tanti ragazzi bellunesi verso le città universitarie e il conseguente spopolamento del territorio siano in qualche modo compensati. Ne parla il referente delle scuole in rete, Franco Chemello. I bellunesi e per le famiglie di bellunesi c'è un deflusso di risorse economiche che poi sono anche risorse umane assolutamente perché i nostri studenti sono costretti ad andare fuori sede a studiare un po' ovunque in Italia talvolta anche all'estero e quindi bisogna finanziarli perché bisogna affittare degli appartamenti che devono vivere fuori oltre a pagare le tasse universitarie e non c'è un ritorno di altri giovani perché per qualche facoltà magari devoluta qui nel nostro territorio magari quelle legate alla montagna può essere scienze forestali, geologia che magari naturalmente dovrebbero stare qui. Questa è sicuramente qualcosa che finalizza il nostro territorio ma non soltanto da punti economico ma fa più umano perché poi i ragazzi sono i nostri sono così bravi perché la nostra scuola è una scuola di eccellenza lo dicono tutte le statistiche che restano fuori. Rimaniamo sempre sul territorio bellunese dalla caserma militare a spazio per le associazioni la cultura e il volontariato è quasi ultimato il grande progetto del comune di Belluno per rendere l'ex caserma Piave la cittadella del terzo settore. È diventato poi il simbolo dell'amministrazione Massaro l'ex area militare di Belluno trasformata in una cittadella per il terzo settore dove accogliere associazioni cooperative fare e promuovere cultura. In questi giorni stanno per essere ultimati i lavori all'area esterna finanziati con i soldi del bando periferia e del governo. La parola all'assessore alla rigenerazione urbana e all'urbanistica Franco Frison. 850 mila euro di risorse dello Stato che grazie al progetto rigenerazione sono venute in città per intervenire in questo spazio in questo spazio che un tempo appunto era una caserma in particolare per relazionare quindi riqualificare tutti gli spazi esterni. Gli interventi sui singoli edifici non ce ne sono stati ma proprio tutto lo spazio che un tempo era destinato e occupato esclusivamente da asfalto e quindi dagli automezzi era una sede logistica in realtà è stato completamente riqualificato con degli elementi modulari con elementi di arredo urbano di particolare interesse ma anche ridando come nello spazio dove ci troviamo adesso una centralità delle strutture come una tettoia che possono essere invece dei luoghi di aggregazione molto importanti. Quindi viene dato alla città questo spazio quindi una delle ultime caserme inutilizzate non più utilizzate vengono restituite alla città per un utilizzo appunto assolutamente pubblico. Ora come di consueto andiamo a farci raccontare alcune delle anticipazioni sulle notizie che troverete domani in edicola sulle pagine del Gazzettino in compagnia di Tiziano Graziottin. Buonasera 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 a voi beh ancora e sempre purtroppo come in questi mesi in questi anni parliamo di Covid perché ci sono delle novità ancora significative sulla questione dei cortei il liminale come ormai noto ha fatto il giro di vite annunciato per quanto riguarda cortei e manifestazioni ma segnaleremo domani ai nostri elettori una controffensiva possiamo chiamarla così dei Novaks a Padova che per sabato hanno annunciato un corteo di auto con partenza dallo stadio Euganeo che evidentemente pure potrebbe creare molti problemi con un serpentone di auto e ancora sempre sullo stesso tema segnaliamo una vicenda giudiziaria ma interessante relativa a un ragazzino di 14 anni il papà era determinato che questo ragazzino si vaccinasse e il ragazzino stesso era di questo avviso la madre assolutamente no si è finita in tribunale dove il giudice ha dato ragione al genitore e di fatto accogliendo anche la volontà del ragazzino che potrà quindi vaccinarsi chiudo il capitolo covid per segnalare il rialzo anche in Veneto purtroppo dei numeri spostandoci alla cronaca sicuramente significativo un'intera pagina che ospiteremo domani su Italia la cultura c'è stato ancora un dibattito molto acceso in regione ma soprattutto domani proporremo ai nostri lettori i numeri reali di quanti fondi vengono assegnati alle associazioni culturali del Veneto anche con una divisione diciamo pro capite e numeri impietosi purtroppo per il Veneto penultimo nella classifica italiana e a grande distanza da molte regioni come ad esempio proprio il Friuli e ancora per quanto riguarda la crisi la crisi economica che si registra nel bellunese per le vicende della CCC e della idea standard ebbene il singolare questa presa di posizione dei vescovi che hanno preso il toro per le corda come si suol dire e organizzeranno in prima persona assieme al sindaco di Borgo Valbelluna una manifestazione che si terrà sabato proprio per sottolineare l'impatto sociale oltre che economico l'impatto per tantissime famiglie di questi tagli di queste riduzioni di personale che si stanno avendo nel bellunese ancora daremo conto delle ragioni dell'iniziativa della regione Veneto a Bruxelles per opporsi ai croati sulla vicenda del Prosecco Prosec domani i nostri lettori troveranno le motivazioni con cui in sostanza il Veneto sostiene e ha ragione diciamo che il Prosecco è una denominazione che deve essere solo ed esclusivamente del Prosecco diciamo delle nostre zone infine per quanto riguarda l'aspetto culturale una pagina dedicata alla mostra per l'infanzia dell'illustrazione anzi l'infanzia a Sarmede ormai è diventata un classico riprende dopo i mesi difficili dopo questo anno è il mezzo difficile del Covid con tante novità una mostra ci hanno detto gli organizzatori proprio pensata e mirata più che mai sui bambini quest'anno e quindi veramente tutta da vedere per loro e per le famiglie ecco direi che queste sono le notizie più significative che troverete sul gazzettino di domani e nella versione digitale già dalla mezzanotte di oggi a voi grazie grazie buon lavoro ai colleghi del gazzettino noi torniamo a Venezia per raccontarvi di una iniziativa al museo M9 di Mestre nei giorni scorsi annunciato uno speciale evento di chiusura della manifestazione Festival delle Idee nel corso di una conferenza stampa all'auditorium dell'M9 nei giorni scorsi è stato annunciato che si terrà venerdì 12 al Teatro La Fenice l'evento speciale di chiusura della terza edizione del Festival delle Idee la manifestazione tenuta dal 30 settembre al 23 ottobre che ha visto riuniti musicisti filosofi scrittori nella discussione sul tema chi siamo chi saremo l'appuntamento si intitolerà Incroci di Idee e andrà a chiudere un festival ideato in collaborazione con la regione del Veneto il Comune di Venezia il Polo Museale M9 l'Ulst 3 che quest'anno ha registrato 6.300 presenze oltre un milione di visualizzazioni e 900.000 utenti raggiunti sui social network numeri che vanno oltre le aspettative dell'amministrazione comunale in quanto nel 2019 erano partiti con 2.500 presenze e nel 2020 erano aumentate a 3.000 ma quest'anno sebbene il periodo sono più che raddoppiate e le istituzioni sperano ancora meglio per la quarta edizione programmata tra settembre e ottobre 2022 che sarà ancora più estesa nel territorio Noi ci fermiamo qui vi lasciamo alle previsioni del tempo a seguire Basket a Nord-Est con Massimo Campazzo tutte le notizie sulla palla spicchi dal Triveneto e non solo grazie per averci seguito l'informazione torna domani alle 20.30 buona serata Un saluto agli amici di Udinese TV che ci seguono dal Veneto da Fabio da Lio di Terrabi Meteo Nella giornata di mercoledì il Veneto sarà alle prese con circolazione instabile soprattutto che interessa Mediterraneo e occidentale e che fa risalire molta nuvolosità in particolare sui versanti più meridionali della regione dove qui il tempo sarà più nuvoloso special confine quindi tra Lombardia ed Emilia ma con scarsa probabilità di precipitazioni maggiori spazi soleggiati invece sono attesi sulle Dolomiti seppur con qualche nuvola di passaggio ma anche sul Veneto più orientale clima comunque asciutto per l'intera giornata su tutta la regione abbastanza freddo al mattino ma di giorno comunque raggiungeremo i 15-16 gradi sulle zone di pianura attenzione ai venti di bora che continueranno a soffiare soprattutto lungo le coste ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti